Lucia De Soccio tra le mille attività che fa la nuova Pallavolo Campobasso non poteva mancare con il CONI alla giornata nazionale dello sport dove tra l'altro voi partecipate anche come centro CONI? Sì sì, a parte che ci tocca, è un dovere, anche una delle poche domeniche libere la dedichiamo a questa attività come al solito, poi dire di no al CONI è impossibile ma fra l'altro è una cosa talmente piacevole poi in questa location del comune di Campobasso che è la nostra città in questo clima che è già di corpus domini è veramente bello stare qua con tutti questi bambini e tutti questi genitori. Diciamo che per quanto ti riguarda sei reduci anche da un'esperienza in Calabria, insomma solo in Calabria è l'ultima perché avete terminato i campionati regionali ma avete avuto anche il merito di conquistare l'accesso alle fasi nazionali quindi è tempo anche di viaggio per la nuova Pallavolo Campobasso. Allora noi stiamo viaggiando da parecchio fra playoff con la prima squadra e finali nazionali perché come tutti sanno abbiamo vinto 18, 16 e 14 per cui tranne la disavventura della 14 che felicemente annuncio si svolgerà qui a Campobasso dopo il trofeo delle regioni abbiamo fatto queste esperienze sia in Calabria che in Sicilia e siamo tornati veramente con un gran sorriso perché abbiamo fatto un bel campionato nonostante qualche disavventura nostra interna di qualche infortunio di ragazza però comunque ci siamo sempre. Diciamo anche che adesso chiudete l'attività tra virgolette agonistiche e vi tuffate anche nei campus estivi. Beh quest'anno ci siamo dovuti un po' ridimensionare perché praticamente fra il trofeo delle regioni e l'under 14 il nostro impianto è stato giustamente messo a disposizione per queste manifestazioni e quindi ci siamo affidati, affiancati a Sant'Antonio di Padova dove con la direttrice abbiamo un ottimo rapporto e quindi daremo una mano, abbiamo fatto squadra con questa scuola materna e saremo lì per quest'anno l'anno prossimo poi si vedrà. Intanto siamo contenti perché è il momento di unirsi per fare veramente qualità e non solo quantità perché noi dobbiamo dare anche nei campus estivi non il parcheggio temporaneo ma una qualità professionale e anche di divertimento che deve essere all'altezza della situazione.